Lunedì 2 marzo nell'aulamagna dell'Istituto dell'Aquila Stappa di Trinitapoli avrà luogo la prima tappa degli stati generali dei lettori, ovvero chiacchiere senza distintivo. Operatori e fuitori del libro metteranno insieme competenze, energie e immaginazione per trasformare una cittadina del sud già insignita del titolo di città che legge in una città che legge il mondo dove si può produrre bellezza attraverso le parole. Uno scrittore intervesterà un editore che supporta tutti gli educatori, un libraio itinerante che studia progetti per mantenere vitali le librerie. E' questo il senso secondo Antonietta Dindrono che dal 1989 con un gruppo di ricercatori ha fondato a Trinitapoli il centro di lettura Globe Trotter, lingue e culture in movimento e dato vita alla rassegna di promozione della lettura Libriamo. Sono state liberate nel colpo di Manfredonia cinque tartarughe della specie Caretta Caretta. Per i dettagli salveggio segrenga.